Una turris ancora convalescente acciuffa il pareggio al 97esimo nell'impegno casalingo con Illatina evitando così la quarta sconfitta consecutiva. Coach Di Michele all'esordio davanti al pubblico di casa deve fare a meno di Perina squalificato e si affida a Leonetti e Magnero in avanti. Partono bene i Coralini con Frascatore e Audi che non trovano la porta, rispondono gli ospiti con Fabrizi che chiama l'estremo Coralino Fasolino alla doppia parata. Il vantaggio arriva alla mezz'ora, cross di Frascatore e Magnero ribadisce in rete il palone che Cardinale aveva dapprimare spinto dopo il colpo di testa. Passano dieci minuti e Nerazzur ritrovano il pareggio con Carletti che insacca da due passi. Nella ripresa in Latina ribalta il risultato al ventesimo con Di Livio che da fuori aria scaglia un tiro che Fasolino non riesce a deviare, 2 a 1. Al ventisesimo gol annullato a Leonetti, poi forse in Coralino e altro gol annullato a Longo. Ma al minuto 97 su punizione Leonetti trova la traitoria giusta che supera il portiere Pontino e fa esplodere Liguri per il pareggio finale. Prossimo impegno domenica 13 novembre a Pagani contro la Gelbison.